Come trollare i nemici su Fortnite in modo epico Utilizzate l'emote mutaforma di Mystic Che è questa skin qua Uccidete il boss Bellissimo e gigantesco in questo modo Attivate l'emote mutaforma Eeeeee BOOM In questo momento vi siete trasformati nel boss del capitolo 3 E appena vedrete un nemico Beh, continuate a far finta di essere il boss E lui non vi fa niente Vi ignora completamente Lo state vedendo Ma ciò che non sa in realtà è che Voi siete solo dei nemici Trollato